È scomparso a 50 anni Peter Charles Marcard, noto soprattutto ai fan di Robert Rodriguez per il ruolo del boss della droga Moco, personaggio del film El Mariachi, pellicola del 1992 e primo capitolo dell'omonima trilogia. Stando a quanto riporta Deadline, Marcard è morto ad Austin in Texas lo scorso 19 luglio, ma non si sa altro della scomparsa dell'attore, molto apprezzato da Rodriguez che lo aveva voluto anche in Desperado e in Spy Kids 3D Game Over. I due si erano conosciuti partecipando come cave ad una ricerca sul mondo della droga ed erano compagni di stanza. Rodriguez partecipava allo studio proprio per poter ottenere i soldi necessari per girare il Mariachi, realizzato alla fine con un budget di soli 7.000 dollari.